partiti al comando si porta Docker presto scavalcato da Meribald quindi per linee interne risale Giant Diamond che per linee interne passa a condurre scavalcando anche Meribald in terza posizione si mantiene Docker davanti a Bridge Arabrab quindi Jack's Lantern Silver Chef con in coda Adams Cavalli ora lungo la curva in vantaggio Giant Diamond nei confronti di Meribald che ha all'esterno Docker quindi Bridge Arabrab ancora Camp Rus quindi ancora Jack's Lantern con Adams che all'ingresso in retta preferisce corsie interne siamo in retta di arrivo Giant Diamond attaccato a centropista da Docker che sta passando al suo inseguimento si propone Bridge Arabrab più indietro Adams che cerca di risalire all'interno poi ancora Jack's Lantern siamo nel tratto conclusivo Docker sta allungando e prende nettamente da meglio mentre Bridge Arabrab è attaccato all'interno da Adams e a largo da Jack's Lantern nel finale Docker non ha problemi e si impone mentre per il secondo posto sono vicini Bridge Arabrab e Adams rivediamo le immagini del numero 4 Docker Manuel Porco in sella il favorito della corsa che si è imposto nettamente alla distanza i colori sempre della scuderia Keymax con al trainer Maria Paola Gaetano al posto d'onore più difficile e incerta la lotta tra il numero 2 Bridge Arabrab che comunque sembra che abbia avuto ancora ragione del numero 1 Adams quindi l'arrivo probabile ufficioso della seconda